Torna il beach ad Eboli, questa volta in piazza della Repubblica. L'evento, inserito nel calendario ufficiale del comune di Eboli, si svolgerà dal 5 al 15 luglio. Durante i 10 giorni si sfideranno squadre di beach volley, beach soccer, beach tennis. Il 10 luglio poi si terrà una sfida nella sfida fra staff, politici e giornalisti. Questo è un evento storico perché in piazza la sabbia non è mai entrata, quindi diciamo che è un evento storico a tutti gli effetti anche perché chiaramente durante tutti questi anni abbiamo avuto l'opportunità di sviluppare altre tipologie di manifestazioni invece quest'anno in piazza entriamo nella storia. Quindi l'appuntamento è per giorno 5 a partire dalle 19? Sì, praticamente faremo l'inaugurazione del villaggio che verrà costituito all'ingresso della piazza di Eboli con una serie di stand e poi con questo campo molto successivo inizieremo con un memorial da ricordare a alcune persone che praticamente hanno partecipato attivamente a quelle che sono state le manifestazioni precedenti. Siamo molto entusiasti di questa organizzazione che da Eboli manca da 11 anni. L'ultima volta è stato fatto a località Campolongo il 2007, quindi dopo 11 anni ritorniamo, però ritorniamo in una location che è la bomboniera di Eboli, perciò diciamo che questa è una scommessa. Speriamo che il popolo ebolitano, anche quello dei paesi limitrofi risponderà con entusiasmo e con voglia soprattutto di partecipare a queste gare amatoriali, professionisti, dove la cosa principale è il sociale, stare insieme e divertirci con gastronomia, con giochi, soprattutto anche in trattenimenti vari. Torno dopo 11 anni, però ricordiamo anche quando per la prima volta lo facciamo io e Massimo Giusti nel 2002, se non sbaglio, dietro la chiesa in piazza, insieme anche ad Antonio Elia, con la tua presenza, e abbiamo voluto riportarlo di nuovo nel cuore della città. È un percorso secondo me importante perché andiamo ad abbinare il divertimento, uno sport che comunque sta crescendo e farlo nel cuore della città, quindi ripopolare di nuovo la piazza come stiamo facendo da ben tre anni, quindi riportare la gente in piazza, riportare l'entusiasmo nella città, riportare l'aggregazione. C'è una grande squadra che sta lavorando dietro a questa organizzazione che ha già dimostrato di essere molto brava e capace di riuscire a fare squadra, nel vero senso della parola e a far diventare sempre di più eboli un punto di riferimento in provincia di Salerno.